e buona prima grazie sono il taggero con il suo personaggio sono qui nel nostro video sempre subito al manager quest'oggi vi andrò a mostrare non una tattica che funzionava nel 21.2 e ho voluto testare anche nel 21.4 ma una tattica che è la ricreazione di un modulo di un allenatore che ha fatto la storia del Benfica tant'è che sa parlano di Giorgi Jesus inizialmente questo modulo era stato ideato basandosi sulle idee che l'allenatore aveva trasmesso ai calciatori del Flamengo ma non conoscendo bene come funziona il campionato brasiliano ho preferito andare nel campionato portoghese perché è un campionato europeo quindi riesco a conoscerlo leggermente meglio del campionato brasiliano non che poi io sappia tutti i pregi e difetti del campionato portoghese anzi però pensavo fosse il modo più semplice di andare a testare questa tattica vi tengo a precisare come dico sempre che sto utilizzando l'ultimo database aggiornato che trovate nella pagina di FMScout che se non conoscete è una delle migliori se non la miglior pagina web che tratta Fulton Manager questo database comporta quindi ad avere le rose aggiornate all'ultima sessione di mercato e inoltre so perfettamente che è disponibile Fulton Manager 2022 ma continuerò a postarvi delle tattiche che funzionano su Fulton Manager 2021 perché esistono persone che preferiscono non comprare ogni anno Fulton Manager e quindi è capitato che al posto di giocare a FM21 se non giocassero a FM20 e così potrebbe succedere anche con FM22 con ciò se poi usciranno tattiche interessanti di FM22 le andrò a testare e se poi funzionano ve le vado a mostrare su YouTube con ciò non voglio dilungarmi fin troppo come vedete dalla schermata principale abbiamo vinto il campionato portoghese con 5 punti di vantaggio sul porto chiaramente il campionato portoghese se lo vanno a giocare Benfica Porto e Sporting sarebbe stato un miracolo se qualche altra squadra si fosse classificata in queste prime tre posizioni però lì andremo nei dettagli più tardi come statistiche giocatore abbiamo Roman Iaremchuk che è stato il capocannoniere un giocatore che ha disputato anche un ottimo europeo ha fatto 24 gol con noi in 35 presenze da titolare e sarà subentrato chi ha ottenuto il voto medio più alto è chiaramente Grimaldo grandissimo terzino di FM con una media di 7,41 Grimaldo inoltre è anche quello che ha ottenuto il maggior numero di assist ovvero 12 Votamendi ha il 98% di passaggi completati essendo quindi il migliore in questa statistica Grimaldo e Sequeira sono quelli che hanno ottenuto più volte l'uomo partita con bene 6 premi ottenuti Bertonghen è stato munito 11 volte mentre Gabriel, Darwin Nunez, Montoya e Meite sono stati espulsi una volta la classifica recita 9 vincitori con 84 punti vincendo 27 partite pareggiandone 3 e perdendone 4 abbiamo fatto 81 gol e ne abbiamo subiti 29 avendo quindi una differenza reti di 52 a livello di competizioni abbiamo vinto oltre alla Liga NOS anche l'Allianz Cup e la Supercoppa Portoghese inoltre siamo stati eliminati al terzo turno della Coppa Portoghese e agli ottavi contro l'Atletico Madrid in Champions League la datica che ha utilizzato Giorgi Jesus al Flamengo è un 4-4-2 come vedete può sembrare un 4-1-1-2-2 o un 4-2-2-2 ma vi posso assicurare che in fase di non possesso le ali invertite vanno ad arretrare e si ottiene un classico 4-4-2 flat in porta abbiamo un portiere libero con i compiti difensivi senza alcuna istruzione sulle fasce abbiamo due terzini nella tattica precedente a questa ovvero 4-4-2 macchina al gol vi ho mostrato come terzino fluidificante e ala ad attacco si vanno chiaramente a festare i piedi perché hanno un ruolo che è praticamente uguale in questo caso avendo un'ala invertita la cosa più sensata da fare è con l'ala invertita che si va a centrare quindi fa questo movimento dietro è inutile che sia un terzino che sia bloccato ma si dovrebbe avere un terzino che vada a fare tutta la fascia quindi la combo principale sarebbe un'ala invertita più fluidificante dietro essendo una ricreazione della tattica utilizzata in real life io ho ottenuto il terzino anche perché poi essendo già un modulo comunque offensivo avendo anche un fluidificante indietro un'ala invertita si andava a perdere l'equilibrio principale i due terzini che hanno compiti di supporto hanno come istruzione crossare più spesso, andare avanti appena possibile e stare più largo sia per quanto riguarda il terzino sinistro che per quello di destro centralmente abbiamo due difensori centrali con i compiti difensivi entrambi i difensori hanno corri più rischi come istruzione aggiuntiva a livello di centrocampo abbiamo un registra arretrato che ha come istruzione dribblare di meno, fare più pressing e contrasti più duri e un centrocampista di quantità che ha come compiti correre più rischi e fare contrasti più duri come vi dico sempre, quest'anno su FM il CCQ è stato depotenziato quindi se volete andare a modificare leggermente la tattica qui vi consiglio un centrocampista centrale con i compiti di supporto piuttosto che uno di quantità a livello di fasce abbiamo una doppia ala invertita entrambe hanno compiti di supporto l'ala invertita di sinistra ha correre più rischi, crossare più spesso, andare avanti appena possibile, libertà di movimento, contrasti più duri e marcare un ruolo specifico ovvero il terzino destro l'ala invertita di destra ha i medesimi compiti chiaramente avendo come marcare ruolo specifico il difensore di sinistra quindi il terzino vi ho detto già più volte in questi video dove vi mostro le tattiche che la doppia ala invertita è sia una combo funzionante su FM ma non la migliore quella migliore è attaccante esterno più un'ala invertita la combo peggiore di tutto invece è il doppio attaccante esterno in attacco abbiamo un falso 9 che va ad arretrare e ad aiutare il centrocampo e come compiti ha libertà di movimento, muoversi negli spazi e contrasti più duri e in più abbiamo a supporto un centravanti con i compiti chiaramente l'attacco che ha come istruzione libertà di movimento e vari contrasti più duri a livello di mentalità abbiamo positiva in fase di possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco abbastanza stretta si parte palla a terra dalla difesa giocando la palla negli spazi come stile di passaggi abbiamo più corti e come ritmo di gioco più alto si fanno cross tesi portando la palla in aria di rigore e si affronta la difesa palla al piede in fase di transizione abbiamo chiaramente fare pressing a tutto campo contro piede e si passa la palla velocemente in fase di non possesso abbiamo una linea difensiva più alta facendo fuori gioco e una linea di pressing più alta si bloccano le vie centrali si fa più pressing e si fanno i contrasti aggressivi il pregio di questa tattica che ho notato è un piacere vedere i giocatori occupare perfettamente gli spazi quindi per quanto riguarda a livello di solidità se i giocatori imparano a capire i movimenti che fanno i propri compagni di squadra questa è tra le tattiche che ho testato quella dove gli spazi si occupano nel miglior modo possibile come contro invece si è un po' disordinati in fase difensiva quando quindi non si ha la palla tant'è che se vi vado a mostrare il calendario partendo dal cammino in Champions dove veramente abbiamo fatto le qualificazioni battendo il Celtic e lo Spartak abbiamo passato il girone, pensate, contro l'Inter, il Kairat e il Bayern Monaco passandolo come seconda fascia diciamo poi purtroppo il nostro cammino in Champions si è interrotto subito agli ottavi contro l'Atletico a causa anche del 2-0 subito all'andata poi a ritorno non siamo riusciti a libertare il risultato mostrandovi gli highlights quello che vi posso far notare è ad esempio la partita vinta 4-3 contro il Porto in questo caso il Porto passa in vantaggio come vedete qua riavvolgendo un attimo si è fatto un casino allucinante con l'uscita su Taremi tant'è che lì doveva uscire solo Vertonghen che chiaramente è il difensore che ha preso di marcatura Taremi verissimo chiaramente deve cercare di coprire lo spazio che andrà ad attaccare in profondità Evan Ilson come vedete da questa immagine si è anche pigri nel rientrare a difendere perché oltre ai due centrali non c'è più assolutamente nessuno che vada a difendere la propria porta quindi si ha un 2 contro 2 che è un 1 contro 1 Taremi Vertonghen e un 1 contro 1 Evan Ilson verissimo facendo questa triangolazione qua con Verissimo che va a chiudere Taremi è praticamente Evan Ilson contro il nostro portiere quello che è successo ora troviamo prima il gol del pareggio con João Mario che la smista bene Pizzi e come avete visto Yarenchuk si è inserito perfettamente in uno spazio minuscolo Yarenchuk che di per sé non è affatto un giocatore che dovrebbe occupare perfettamente gli spazi anche perché non è un per caratteristiche un giocatore con il baricentro basso che quindi si muove perfettamente tra le linee tant'è che è uno che dovrebbe tenere sulla palla però in questo caso ha sfruttato perfettamente il buco creato dai difensori del porto dopo il gol del 1 a 1 troviamo anche il gol del 2 a 1 la calcio d'angolo con Grimaldo che la mette sul primo palo e Verissimo si fa in parte per donare al gol che ci ha fatto subire andiamo poi a fare il gol del 3 a 1 con Vlacodimos che si fa partire palla a terra dalla difesa l'azione, Weigl smista bene Pizzi cerca di rientrare in difesa Grimaldo va ad attaccare centralmente gli spazi Weigl la smiste, la smista Rafa la mette dentro per Darwin Nunez gol del 4 a 1 che nasce da rimessa laterale Vertonghen, Weigl la va ad allargare Jarenciuk protegge palla, Pizzi la scarica Gio Mario, Pepe allontana ma non c'è nessuno del porto che faccia salire la propria squadra quindi si riparte con estrema calma dal difensore poi Vertonghen la va a smistare prima da Pizzi e poi da Rafa quindi da una fascia all'altra Gilberto sulla fascia attacca lo spazio, la mette in mezzo Jarenciuk la prolunga, Manafa fa un disastro difensivo Darwin Nunez recupera palla e Jarenciuk la insacca il porto prova ad accorciare le distanze con una palla persa nostra con Matos che la va a mettere dentro Jarenciuk stacca ma male quindi Marcesin la fascia va a rilancio lungo verissimo ancora una volta è stato veramente pigro a livello difensivo poi Evan Nilsson va a vincere il contrasto gol del 4 a 3 molto bello ma Pepe è stato lasciato da solo sostanzialmente vi mostro anche le due partite fatte contro Atletico sia con la di andata che nel ritorno per quanto riguarda la partita di andata si può notare come all'inizio Griezmann sfugge a Grimaldo e Lemar viene lasciato da solo perché il nostro difensore non ha letto il movimento movimento che non viene letto nemmeno nel secondo gol perché Lemar attacca bene lo spazio e il difensore rimane praticamente fermo al ritorno invece abbiamo cercato di ribaltare il risultato ma non ci siamo riusciti abbiamo letto anche bene diciamo all'urto perché l'Atletico di Madrid era passato in vantaggio con Suarez che scappa ancora in mezzo ai difensori che fa il gol dell'1 a 0 che diventa 1 a 1 con un'incornata bellissima di Radonjic gol del 2 a 1 nostro con un ottimo scatto in profondità di Pigno poi l'Atletico va ad accorciare al 93esimo con Condobbia che la passa a Lemar e Cugna ancora una volta scappa tra i difensori alla fine facciamo il gol del 3 a 2 inutile con Lazaro che la mette in mezzo Pigno attacca ancora bene a profondità quindi come avete visto se attacca perfettamente la profondità si sfruttano gli spazi lasciati dai difensori o dai centrocampisti avversari però in difesa c'è davvero molta pigrizia nel contenere gli attaccanti o gli esterni o i centrocampisti che si vanno a inserire con ciò io spero che il video vi sia piaciuto se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete se provate la tattica o la modificate lasciatemi nei commenti il vostro feedback se avete dei dubbi e perplessità lasciatemi nei commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile noi ci vediamo in un nuovissimo video nominate lei e bella rega ciao